buongiorno a tutti allora onde evitare di fare come ieri anch'iedo ancora venia ma purtroppo ho caricato il video erano ancora le 17 43 mi dice 10 minuti è online sono uscito di casa alle 18 e 29 quindi aveva tutto il tempo per caricarlo perché 10 minuti 17 43 17 50 fai 18 perché no non ha fatto in tempo a caricarlo non so come mai e quindi è andato online a mezzanotte praticamente quando ormai le partite erano già strafinite quindi onde evitare di fare la stessa cosa le schedine del gigione per le partite di domani 27 settembre ultima giornata definitiva questa nation league che ha rotto i testi però anche questa volta l'italia è in semifinale e io godo anche se molti dicono che se ne frega non andiamo ai mondiali sì ma vuol dire che torniamo a essere competitivi è stato un caso una sfiga tutto quello che volete perché purtroppo i due anni che l'italia non è andata ai mondiali svezia italia poteva finire tranquillamente 1 a 1 o 0 a 0 avremmo finito 0 a 0 anche a san siro saremo andati magari i calci di rigore avremmo perso lo stesso i calci di rigore visto che non li sappiamo tirare si è visto nel girone però vi ricordo che svezia italia noi prendiamo un palo clamoroso col portiere che era fermo immobile non poteva fare nulla e prendendo un gol su uno sfortunato tiro deviato in porta da un nostro giocatore che non mi sovviene adesso sicuramente ci sarà il mio amico milanista che ci penserà lui a dire chi è che fece quell'autogol io non me lo ricordo faccio finta di non ricordarmi per non mettergli la croce addosso poverino quindi nello spareggio con la svezia potevamo fare 1 a 1 in svezia 0 a 0 a san siro e passare noi invece abbiamo perso 1 a 0 non siamo riusciti a segnare occasioni su occasioni sbagliate da mezza squadra non solo dai soliti noti ma da mezza squadra e siamo non siamo andati ai mondiali quest'anno che i mondiali ci saranno a novembre non ci andiamo perché perché i orginio sia l'andata che al ritorno contro la svizzera ha sbagliato il rigore decisivo segnava uno dei due rigori ne bastava uno uno solo e saremmo passati noi ma se sbagli due rigori è giusto che stai a casa però è per due errori due rigori sbagliati che stiamo a casa poi uno può dire no i gigi ma gli spareggi abbiamo perso con la pancedonia ma l'avete vista la partita è stato un dominio assoluto dell'italia ma ci sono partite in cui tu puoi fare 50 tiri in porta tirare anche a porta vuota sulla riga la palla rimbalza sul palo e torna indietro e magari finisce nella tua porta perché quando il pallone non vuole entrare una serata sfigata non entra poi ci sono partite in cui entra come come aprire il rubinetto come dicono qua no che tiri anche da metà campo fai un cross un lancio lungo il vento che cosa una una deviazione così fortuita del pallone che cambia la traiettoria improvvisamente gol pure un tiro che sembra altissimo 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 scende giù di colpo ed entra in porta succede ci sono partite in cui ogni tiro è gol e ci sono partite in cui puoi tirare anche 50 volte in porta centrare la porta e la palla non entra prende il palo la traversa la parla al portiere la respinge un difensore sulla linea gli altri fanno un tiro in porta va dentro da solo succede è il calcio e quindi comunque andare in semifinale per il secondo per la seconda volta con sesso e con cittiva che c'è la nation league mettendo dietro germania inghilterra e ungheria che tra l'altro ha vinto ha fatto tutti i punti con le altre tre vittorie un pareggio con inghilterra e germania due sconfitte con l'italia 2 1 e 2 a 0 è tanta roba e io godo gli altri non godranno ci sono quelli che fischiano bonucci quelli che fischiano donna ruma non me ne frega niente io ve l'ho già detto quando un giocatore italiano veste la maglia azzurra è un giocatore dell'italia e si tifa il giocatore dell'italia anche se magari ci può stare sulle balle non me ne frega niente sta giocando per l'italia sta giocando per la nostra nazione e lo si tifa perché sennò vuol dire che non siete italiani siete interisti milanisti fiorentini juventini quello che volete ma non siete italiani prendete la carta d'identità la strappate e cambiate identità dite sono apolide sono interista sono milanista sono fiorentino ma non sono italiano residenza italiana tranquilla siete nati in italia quindi non ci sono problemi ma non si non definitevi italiani mi dispiace io la penso così quando un giocatore di qualsiasi squadra italiana veste la maglia azzurra io tifo quel giocatore anche se mi sta sulle balle nel suo club ma quando è sta indossando questa maglia no questa maglia azzurra questa è la maglia dell'adidas però è sempre la maglia azzurra l'adoro proprio perché è un bel blu elettrico che mi acchiappa magari ricordo più quella francese ma fa niente per dire la maglia azzurra comunque lasciamo perdere mi sono dilungato troppo chiedo venia schedine del gigione per le partite di questa sera lasciamo perdere la questione italia che è meglio anche se godo allora si parte con tutte partite alle 20 e 45 perché giustamente si giocano le varie posizioni quindi ucraina scozia 1 2 qua ci si gioca il primo posto l'ucraina deve vincere dietro la scozia la scozia anche lei deve fare il suo quindi un bel 1 2 buttato lì non metto l'x 1 2 repubblica di irlanda armenia 1x svizzera repubblica cieca 1 portogallo spagna qua ci si gioca il primo posto la spagna è dietro di due punti quindi il portogallo ha la grande occasione di stare di sorpassare di vincere il girone eccetera se non sbaglio aspettate vado a controllare perché adesso mi sorge un dubbio ma mi sembra che sia portogallo 12 spagna 10 però vado a controllare cambia poco è portogallo 10 spagna 8 ma cambia poco cioè il portogallo ha comunque due punti di vantaggio sulla spagna e quindi al portogallo basta un bel paregino ed è primo nel girone però siccome il pareggio non mi piace no in questo caso non mi piace mi asso rischio anche qui un bel 1 2 russia israele non si gioca scozia slovenia 1 albania islanda anche questa altra partita in cui ci si gioca però la salvezza e quindi dico 1 2 e anche grecia irlanda del nord anche qui l'irlanda si gioca la salvezza la grecia ha già vinto il girone incredibile ma vero ma ha già vinto le giron c quindi salirà nella b mentre invece albania islanda irlanda del nord sono tutte lì vicine vicine si giocano tutte tre la salvezza e quindi metto un bel grecia irlanda del nord 1 2 proprio perché la grecia ha già perso con con cipro se non sbaglio si quindi è l'altro girone non è quello dell'albania e dell'islanda ma è l'altro girone dove c'è il cipro cipro che infatti gioca col kosovo e quindi anche qui signori miei l'irlanda ha bisogno di punti la grecia non gliene frega una beata giovanna quindi metto un 1 2 perché comunque all'irlanda il pareggio servirebbe teoricamente a poco poi abbiamo norvegia serbia e queste sono due squadre che sono appagliate entrambe se non erro a 10 punti si giocano al primo posto il pareggio non so chi favorirebbe perché non sono stato a guardare quindi per non fare torto a nessuno metto un bel 1 2 anche qui vediamo cosa succede sono partite difficili da pronosticare proprio perché comunque è vero che chi gioca in casa è avvantaggiato ma si è visto spesso e volentieri in questa nation league in cui che il fattore campo c'entra fino a un certo punto mi ristopo un attimo e poi parliamo dell'ultima niente osternutito chiedovenia non gliel'ho fatta ho dato lo sternutone vabbè almeno vi fate due risate siete contenti dicevamo norvegia serbia 1 2 kosovo cipro 1 2 anche qui perché anche questa è una partita che signori miei ci si gioca la salvezza quindi 1 2 andiamo 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 a vedere la schedina alternativa e come sempre il gigione va giù di mannaia perché è bello è bello chi non risica chi non rischia non rosica e rosicare è anche bello no che nervi poteva essere avevo l'over tre e mezzo è finita due a uno come mi potevo mettere il gol più over e ho voluto ci ho provato però a volte da prendi allora partiamo ucraina scozia gol più over due e mezzo dato a due e mezzo repubblica di irlanda armedia over due e mezzo dato a 1 e 98 svizzera repubblica cieca gol più over dato a 2 50 gol più over a 2 50 la 2,5 l'over a due e mezzo vinci due e mezzo poi dopo qua questo proprio è proprio un super rischio portogallo spagna over tre e mezzo a 3 65 ragazzi se questo esce c'è una botta di fortuna mica da ridere quindi state schisci vedete voi se volete farlo no svezia slovenia over due e mezzo dato a 2 più tranquillo albania islanda qua rischio ancora di più molti gol ospite 2 4 dato a 3 60 dato a 3 60 e infine no infine no perché poi ci sono le altre due partite grecia irlanda del nord over due e mezzo dato a 2 50 anche questo bello arrischiato norvegia serbia gol più over due e mezzo dato a 2 25 e infine kosovo cipro over due e mezzo dato a 2 10 tante partite sono finite 3 3 2 1 1 a 2 eccetera eccetera quindi gli over due e mezzo in questa nation league ci possono anche stare poi logicamente come vi dico sempre non vi ispira non siete sicuri over 1 e mezzo tranquillo vi portate a casa il vostro 1 e 30 1 e 40 1 e 50 magari ne giocate 3 o 4 che sulla carta possono uscire facilmente gli over senza bisogno che sia un over 2 e mezzo basta l'over 1 e mezzo a volte fate quattro partite da over 1 e mezzo tac io ai mondiali gli ultimissimi quelli di un po di anni fa mi giocavo le partite di giornata over 1 e mezzo tutte e gol senza over gol le stesse con cose separate 4 e 4 no quattro partite quattro partite quell'anno con i mondiali ho vinto perché praticamente gli over 1 e mezzo mi uscivano al 90 per cento su 10 volte che li giocavo 9 over 1 e mezzo uscivano i gol su 10 volte 5 volte uscivano quindi comunque vincevi qualcosina stavi sopra lo stesso perché comunque con i gol guadagnavi bene eh io mi giocavo i miei 2 euro con i gol ne portavo a casa 10 quindi era come vincere 5 volte 5 giocate e ne ho vinte 5 50 euro con un totale di gioco di 20 euro 10 giocate a 2 euro sono 20 euro ne prendi 5 che pagano 10 euro fanno 50 euro quindi 30 euro con quelle gli over 1 e mezzo non è che pagassero molto però raddoppiavi abbondantemente la cifra nei presi 9 su 10 alla fine della fiera mi sono ritrovato con un bel gruzzolino però era il mondiale mondiale è una cosa diversa ragasoli chiedo venia mi sono dilungato troppo ho parlato anche della nazionale credo che qualcuno si invipererà si zebrerà si indiavolerà si torinizzerà si acquilizzerà eccetera si ciuccinerà ciuccio o asinellerà visto che c'è il ciuccio l'asinello eccetera il napoli il simbolo si violerà per i fiorentini eccetera perché molti quando gli dici ma siamo italiani bisogna votare la tifare la nazionale apriti cielo no perché c'è quello lì perché c'è quello ragazzi è la nazionale italiana è normale che ci siano i giocatori italiani che giocano nelle squadre italiane logicamente ci sono anche tanti di squadre che magari vi stanno sulle scatole giocatori che vi possono stare sulle scatole ma cos'è smettete di tifare la vostra mettiamo a caso che uno che vi sta sulle scatole viene a giocare nella vostra squadra smettete di tifarla perché c'è quello lì lo fischiate tutta la partita anche se vi fa doppiette su doppiette non lo so non penso detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo nella giornata di domani di oggi oramai ma non so cosa farò perché alle 14 viene il mio amicone che mi sta facendo mi sta seguendo tutti i lavori di casa e deve proseguire qua per iniziare anche la costruzione della sala giochiche madonna benedetta quante cose sono da fare mi sa che prima della primavera ciao anzi senza mi sa quasi sicuramente solo che mi piacerebbe che mi facesse un avanzamento lavori nel senso dobbiamo fare questo costerà così dobbiamo fare quest'altro costerà così c'è da fare quest'altro vedremo di far costare così eccetera 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 perché poi dopo c'è tutto il biliardo da mettere dentro il calcetto da mettere dentro le freccette da mettere dentro il tavolo ce l'ho già per chi vuol giocare a carte vieterà il piccolo jolly blu del gigione ma chissà quando ciao